Dalla Sicilia sbarca nel resto del paese la protesta del così detto movimento dei forconi contro il rincaro del gasolio, dei pedaggi autostradali e dell'IRPEF. Oggi i blocchi attuati con i tiri in tutta la Puglia hanno provocato disagi non solo agli automobilisti. Il più pesante e con maggiori ripercussioni sul traffico è stato il blocco attuato sulla tangenziale di Bari all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggio Franco, con tre chilometri di code su entrambe le careggiate. Ma il programma di liberalizzazioni previsto dal governo Monti ha causato indignazione e proteste anche da parte di altre categorie. Oltre a quella degli autotrasportatori, oggi è anche il giorno dello sciopero dei tassisti. 150 i tassisti provenienti da tutta la Puglia che si sono dati appuntamento in Piazza Libertà a Bari davanti al Palazzo della Prefettura per dire no al decreto sulle liberalizzazioni delle licenze. Questo governo ci vuole gettare in mezzo alla strada. Noi chiediamo solo tutele per il nostro lavoro, ha urlato Vito Dellino, rappresentante sindacale. Lo sciopero andrà avanti fino a questa sera, fino alle 23 e va detto che il malessere è talmente elevato che l'adesione da parte dei tassisti in Puglia è stata del 100%. Intanto per venerdì dovrebbero incrociare le braccia. Anche i ferrovieri per il primo febbraio è annunciata la serrata delle farmacie. Restano da definire i dieci giorni di sciopero proclamati dai benzinai. Intanto il Ministero dell'Interno ha assicurato che il governo segue con molta attenzione alle proteste degli autotrasportatori perché nulla esclude che questi malesseri possano sfociare in manifestazioni di tipo diverso.